Grazie Presidente, anche meno si tratta di un emendamento che va a rafforzare un obiettivo operativo già inserito all'interno del documento unico di programmazione e che precisamente riguarda un obiettivo in capo alla polizia locale che già prevede la mappatura delle aree interessate dai fenomeni di ripetuti abbandoni, incontrollati rifiuti, finalizzato a una pianificazione della strategia degli interventi a tutela dell'ambiente abbiamo ulteriormente rafforzato da un punto di vista organizzativo questo tipo di obiettivo prevedendo anche un'istituzione di un ufficio dedicato, di un'unità operativa che abbia questa finalità quindi è un emendamento che non sostituisce un altro obiettivo ma lo va a rinforzare cercando di precisare anche un po' quella che è l'azione che si sta portando avanti su questo tema grazie